Mi chiamo Caterina. Mi chiamo Laura. Questa è la mia casa. È in preferita. È una fila. Andiamo. Questa è la facciata della mia casa. La casa è bella, grande, pulita, bianca e fatta di legno. C'è una porta, cinque finestre, un tetto, un violetto e la scala. La porta è inmenso della finestre. Il tetto è sopra la casa. Il violetto è davanti alla casa e le scala è indietro al violetto. Questa è il soggiorno di Caterina. Ci sono tre poltrone, un sofà, un tavolino, un televisore e una finestra molto grande. Nel soggiorno io do da mangiare alle pesce e io pulisco la tavola. Nel soggiorno io guardo la televisione e io gioco a qui. La poltrona è vicino al televisore, il tavolino è lontano dalla pesce, la finestra è indietro alla poltrona e il sofà è vicino al tavolino. Nella mia camera di letto, mi sveglio e mi alzo. Io faccio il letto e pulisco la stanza. Anche io faccio il compiti e leggo. La mia camera di letto è bella, pulisca, comoda, verde e ecològica. C'è uno specchio, un comò, uno scafale, il letto, due finestre, un comodino e una scrivania. Lo specchio è sopra il comò, lo scafale è lontano dalla finestra, il letto è vicino al comodino e la scrivania è alla sinistra del letto. C'è questo è il bagno di Caterina. C'è lo specchio, il lavandino, il gabinetto, i mobili e le luci. Lo specchio è sopra il lavandino, il gabinetto è alla destra del specchio, i mobili sono indietro del gabinetto, e i fazoletti sono lontano dalla porta. Questo è il dordino di Caterina. C'è una terrazza, una porta molto grande, una tavola, una griglia, un terreno di giotto e alberi. La tavola è sopra la terrazza, la porta è il dietro alla terrazza, il terreno di giotto è lontano dalla tavola, i arboli è lontano dalla porta. Grazie per venire! Ciao! Ciao!